Allora l'appalto andato a deserta non ha un'incidenza immediata sul lavoro dei lavoratori. I lavoratori non stanno lavorando per colpa dell'incompetenza e dell'incapacità del dottore Varrazzani che è il commissario centrale dell'appalto. Il problema fondamentale è che noi chiediamo che i lavoratori vengano a lavorare immediatamente. Chiediamo al sindaco e al prefetto una moral frustration molto dura nei confronti del commissario. Noi crediamo che nella futura gara i lavoratori trovano immediatamente soluzione del loro problema lavorativo e nella gara d'appalto settennale che dovrebbe andare a gara a breve ci sia quell'allargamento che consente ai lavoratori la definitiva sistemazione. È l'immediatezza trovare un sistema per far continuare a lavorare queste persone perché loro lavorano per sopravvivere. Cioè loro hanno finito l'ASPA, hanno finito gli ammortizzatori sociali, non hanno più di come vivere. La protesta nasce da questa considerazione, da questa disperazione.